Come Nextalia trasforma in 2.0 l'azienda a conduzione familiare? L'approccio di Nextalia alla trasformazione digitale delle midcap italiane è molto concreta. Dal nostro punto di vista vi sono tre fasi principali attraverso le quali portare avanti questo tipo di progetti. Una prima fase di condivisione insieme al management team della visione tecnologica a medio e lungo termine della società. Una seconda fase che deve essere quella di studio e implementazione anche con advisor parte del network Nextalia che possano partecipare e sostenere la società nella identificazione delle soluzioni tecnologiche che possano essere abilitanti della trasformazione digitale. E una terza parte che diciamo è altrettanto fondamentale che è quella della formazione, dell'upskilling, tutta la forza lavoro della società in modo che la tecnologia possa essere sfruttata al massimo del suo potenziale.